Il D2T Start Cup Per le città in modo da renderle più comode, sicure ed efficienti Sviluppiamo i sistemi IoT per tracciamento e localizzazione di oggetti di valore Il nostro primo prodotto, Kiss My Bike, è un sistema antifurto per biciclette Ha già ricevuto molteplici valutazioni positive a livello locale ed europeo Ed è stato testato con successo a Trento In questo progetto abbiamo sviluppato un innovativo sistema IoT per il mercato GDO Si tratta del sistema antifurto per i carrelli della spesa Solo negli Stati Uniti vengono rubati quasi 2 milioni di carrelli della spesa Si stima che nel mondo i furti dei carrelli comportano un danno di quasi 800 milioni di euro all'anno Questo sistema è composto di un'unità di comunicazione centrale installata nel punto vendita E una serie di dispositivi mobili di localizzazione installate all'interno dei carrelli della spesa Il dispositivo elettronico può essere installato all'interno dell'impugnatura del carrello oppure nell'occhetto a moneta Grazie all'infrastruttura cloud, la flotta dei carrelli può essere monitorata e gestita Nel momento in cui un carrello esce dalla zona autorizzata del punto vendita Al personale viene notificato il furto e i carrelli sono localizzati tramite il sistema GPS Il nostro sistema offre la possibilità di monitorare la flotta dei carrelli in tempo reale e non ha spese di installazione Infine, la batteria del dispositivo mobile ha fino ad un anno di autonomia